Buonasera a tutti, è un paio di giorni che non vi rompo le scatole perché era a fare il team building aziendale quindi almeno che non volevate video di me con lo slittino sulla neve, è meglio se non ne ho fatti però in realtà oggi secondo me è successa una cosa stupenda, dirò davvero una cosa sola l'accordo tra il ministero della salute, Google e YouTube sul fatto che il primo risultato è quello del governo se cerchi coronavirus, se cerchi coronavirus non c'è più un'informazione libera in qualche maniera ma c'è un accordo tra Google, YouTube e il governo per cui si va sul sito del ministero della salute è una cosa per me bellissima e mi spero che lo estenderanno anche alle altre piattaforme è una bella pedata a tutti coloro che in qualche maniera forse cercavano di speculare su questa cosa tra l'altro sono anche in arrivo delle sanzioni, mi parli di aver capito per tutte quelle aziende che hanno aumentato molto i prezzi dei prodotti relativi appunto al coronavirus verranno chiamate a spiegare il perché ora in realtà questo è un tema molto più grigio e in realtà non ho le idee chiare non volevo nemmeno andare a finire a parlare di coronavirus perché mi sembra appunto già un tema inflazionato ma non inflazionato nel senso non vorrei fare casino ecco non sono una persona competente quindi è giusto che ne parli chi è competente però in questo caso qui rientra in un ambito che ha a che fare col mondo di Google, il nostro beh cavolo, giusto, io lo trovo giusto beh vediamo come va, mi metto il link al governo grazie, ciao